Musica 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 Un esempio unico è una lancia Aurelia Firenze con allestimento Corsa Alla fine del suo proprietario Paolo Nazzotto con la voce di Catrina a canto La voce di Catrina è davvero vocale immagino Ancchina Chi sa cos'è? Due Matteo Matteo Musica Musica Fino Fino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.